La notizia era nell'aria già da qualche giorno. Oggi le dimissioni dell'assessore alla cultura del comune di Teramo, Luigi Ponziani, sono diventate realtà. L'ormai ex assessore le ha consegnate al sindaco Gianguido D'Alberto, rimettendo così le deleghe. Ponziani lascia l'assessorato dopo poco più di un anno e dobbiamo dire che il suo mandato è stato assolutamente inconsistente. Impalpabile la sua figura in Consiglio Comunale, da fantasma la sua presenza per la progettualità e la concretezza. Senza nulla a togliere alla sua cultura bibliotecaria e al suo pensiero politico, la sua figura è stata impalpabile. Si è messo in mostra soprattutto per una serie di no a progetti presentati da chi la cultura la fa e la vive ogni giorno. No a Carmine Di Giandomenico per la proposta della statua di Goldra e Caldipogeo, no al 2 di Coppe, no a qualunque cosa che non abbia un risvolto che piacesse a lui. Insomma, un vero e proprio signor no che ha tenuto bloccata la parte propositiva della maggioranza. Un suo intervento in Consiglio Comunale non si ricorda. Anzi no, ha tuonato dalla sua poltrona da assessore ancora una volta no quando il consigliere di opposizione Corona voleva consegnare un tapiro d'oro all'assessore Stefania Di Padova. Chiaro che la figura di Ponziani, ottimo come direttore della Biblioteca Delfico, poco si confaceva con quella di Assessore alla Cultura. A memoria, uno degli assessori più inutili della storia della città, ma quantomeno non dannoso raggiungere le vette toccate con l'assessorato della Lucantoni nel Brucchi Bis sembrerebbe anche per Ponziani una impresa titanica.